Ragazzi, io non faccio testo perché praticamente sono a schede, però se a voi capita di andare in discoteca o di andare a una cena tra amici, un party importante e magari bevete qualche bicchiere di troppo che poi tra l'altro basta anche molto poco, mi raccomando non mettetevi alla guida. Infatti come i miei amici irlandesi, io mi ricordo quando ero ragazzina, mi divase molto impresso perché proprio ragazzi molto giovani, ragazzi e ragazzi molto giovani quando uscivano andavano al pub che vavano i genitori per andare a prendere, perché non si sarebbero mai messi alla guida. Mi raccomando ragazzi non fate le teste di alcol.